Oggi parliamo dell'espressione moglie e buoi dei paesi tuoi. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Oggi parliamo di un proverbio molto comune, molto popolare e che ha le sue origini, che nasce nel mondo contadino. Il significato di questo proverbio è che è meglio sposare una donna che ci è familiare perché la conosciamo, perché è cresciuta in un ambiente simile al nostro. Questo proverbio può sembrare un po' materialista perché parla del matrimonio come di un contratto economico. Nella civiltà contadina il matrimonio veniva spesso combinato dalle famiglie che si mettevano d'accordo anche su questioni economiche, su questioni patrimoniali. Quindi se qualcuno ti dice moglie e buoi dei paesi tuoi, ti sta consigliando di scegliere qualcosa che conosci già, che ti è già familiare, piuttosto che qualcosa che non conosci, che ti è sconosciuto. Ok, anche per oggi abbiamo finito. Io ti ricordo che se vuoi supportare questo podcast puoi lasciare una valutazione positiva nella piattaforma o nella app che usi per ascoltarlo, puoi seguirmi su Facebook o puoi prenotare una lezione con me. Trovi il link in descrizione. Noi ci sentiamo domani. Ciao! Noi ci sentiamo domani.